Questa nuova crisi che ormai è davanti a noi e che non sarà una recessione ma molti dicono sarà una depressione, quindi vuol dire una situazione più critica appunto più lunga, 10 anni almeno, non simile necessariamente a quella degli anni 30 però vicino come concetto, verrà affrontata invece con l'approccio opposto, ossia quello di prelevare denaro dal mercato e soprattutto dalle persone.